in questo numero di high tech e innovazione magazine bonus tv ecco come richiederlo l'italia riparte dal cloud l'idrogeno per ridurre l'inquinamento dell'industria del vetro come ogni settimana benvenuti da ital press e da the digital club per affrontare un tema legato al mondo della tecnologia e questa settimana è quello del bonus tv proprio qualche giorno fa è entrato definitivamente in vigore infatti il nuovo bonus che non ha alcun legame con l'ise quello precedente che era di 50 euro infatti era destinato a coloro che avevano reddito inferiore ad una determinata soglia nuovo bonus tv invece che arriva ad un massimo di 100 euro per il 20 per cento della propria spesa è destinato a tutti coloro che vorranno cambiare il televisore in vista dello switch off del 2022 il prossimo anno cambia definitivamente la tecnologia con cui vengono distribuiti i programmi televisivi alcune frequenze verranno liberate per far spazio al 5G coloro che vogliono acquistare un televisore potranno dunque avere fino a 100 euro con il 20 per cento di storno della spesa questo vuol dire che ad esempio acquistando un televisore da 600 euro si avranno 100 euro di bonus non è una cifra impossibile ma come si diceva una volta meglio che due dita in un occhio approfondite tutte le regole non sono complicatissime per poter accedere a questo nuovo bonus tv noi ci vediamo la settimana prossima grazie a tutti il 30 40 per cento delle aziende italiane sta già utilizzando il cloud altre stanno iniziando a sperimentarlo ne abbiamo parlato con alessandro ippolito country manager di oracle piano 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 abbiamo tolto anche un po di retropensieri sul cloud il tema del dato dove sta e la sicurezza del dato alcune abitudini anche ad usufruire un servizio in casa e non diciamo in un modo cloud e mi pare evidente che questo è il trend della trasformazione anche perché se immaginiamo la semplificazione che possiamo avere anche a livello proprio nazionale in termini di semplificazione di focalizzazione delle aziende sia grandi ma a maggior ragione anche quelle piccole la possibilità di tutte le aziende di poter avere un servizio cloud disponibile e sempre aggiornato con i massimi livelli di sicurezza con non il pensiero di avere un problema di performance perché automaticamente può scalare all'infinito questo è un qualcosa che per la crescita dei paesi secondo me è fondamentale il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione prevede anche l'adozione del cloud nel settore pubblico e la possibilità dunque di erogare servizi digitali con alti standard di sicurezza e affidabilità Il cloud nazionale è un elemento che potrà portare il paese verso una semplificazione, un'aggregazione di servizi per poterli dare a più pubbliche amministrazioni e a mio avviso va a semplificare tutta una serie di complessità che magari abbiamo nella nostra struttura della pubblica amministrazione di rendere molto più fruibile il servizio per tante anche piccole pubbliche amministrazioni Sicurezza però è il tema fondamentale che il ministro ha toccato su cui deve essere fondato il cloud nazionale Un gruppo di lavoro composto da Snam, Rina e Bormioli ha avviato un progetto che punta sull'idrogeno per la riduzione delle emissioni dell'industria vetraria L'Italia è il secondo produttore europeo di oggetti in vetro Il progetto Divina, decarbonizzazione dell'industria vetraria, ha proprio l'obiettivo di ridurre le emissioni nella fase di fusione del vetro che rappresenta più del 50% del consumo energetico complessivo di tutto il processo di produzione Oggi il principale vettore energetico utilizzato dalle vetererie è il gas naturale e le emissioni di CO2 ammontano a circa un milione e mezzo di tonnellate annue Nel complesso circa il 3,5% delle emissioni dell'intero settore manifatturiero L'impiego di un blend di idrogeno al 30% nei processi fusori del vetro a livello nazionale consentirebbe di ridurre le emissioni di 200.000 tonnellate pari a quelle di 100.000 auto